Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo con la terza settimana di allenamento e andremo ad allenare petto e addominali. Cominciamo con un peso di 28 kg e faremo 4 serie per 20, 15, 10 e 5 ripetizioni. Prima però andiamoci a pesare. Peso 57 kg, punto 40, grasso corporeo 12,2. La prima serie di Panga Piano cominciamo con un peso di 28 kg per 20 ripetizioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, 5 ripetizioni fatte, abbastanza pesanti. Adesso passiamo con il secondo esercizio che è la Panga Inclinata. Ok ragazzi, prima serie fatta. Io ovviamente vi farò altre due serie e noi ci vediamo direttamente con il prossimo esercizio. Terzo esercizio, Panga Inclinata faremo 3 serie per 8 ripetizioni, sempre con 41 kg. cominciamo con la prima serie, l'unica che vedrete perché il peso non valeva. cominciamo con la Panga Inclinata. Ok ragazzi, Panga Inclinata è fatta. 10 ripetizioni, 10 ripetizioni e 8 perché il peso non è poi così pesante, però rimaniamo con questo peso. Sono 42 kg, non 41, primo sbagliato. Comunque ragazzi, ci vediamo al prossimo esercizio. Eccoci qua il quarto esercizio, faremo croci al cavo basso con elastici, 50 libre, faremo 4 serie per 10. Ovviamente ragazzi, voi vedrete solo questa serie, io vi farò le altre 3 e noi ci vediamo con il prossimo esercizio. ultimo esercizio, facciamo croci su panca, declinata, piana e inclinata, faremo 3 serie per 10 ripetizioni, ovviamente 12 kg per manubrio e ci vediamo alla prima serie. ultimo esercizio. Grazie. 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 Tre serie per venti. Cominciamo. Ovviamente 10 secondi di recupero, troverete l'altra. Ok ragazzi. Prima esercizio fatto. Tre serie di crunch per 20. 10 secondi di recupero. Difficile. Ovviamente ragazzi adesso passiamo ai laterali. Faremo tre serie per 15 per lato. Sempre con 10 secondi di recupero, troverete l'altra. Adesso altri 20 secondi di recupero e si comincia. Ok ragazzi. Tre serie per 15, 10, 10 ho fatto perché è difficilissimo questo esercizio qua. Va bene così. Anzi. Anzi. Rispetto all'oltre scorsa la prima serie l'ho fatto da 15. L'oltre scorsa tre serie da 10. Quindi sono anche aumentato. Allora. Adesso ragazzi faremo le grazes da seduto per addomini bassi. 3 serie per 15 per lato edizione. 3 serie per 15 per lato edizione. Per commodity di batteri. Per hogy c'è? Connyciutto. Arета. Ehe. Etere. Viina. Ehe. Grazie.